Eccoci ragazzi, ci siamo, ci siamo, post partita come sempre, partita giocata alle 12.30, Empoli 0, Inter 3, la squadra di Inzaghi vince 3-0 al Castellani Roppetta di Lukaku E gol di Lautaro Martinez che chiude la pratica 0-3, allora come sempre si va a fare due chiacchiere sulla partita, una partita ragazzi, bah bah, disastrosa si può usare questo termine qui Si può usare, disastrosa no ragazzi, però un Empoli che insomma il primo tempo sì, è vero bisogna dare merito, aveva comunque difeso bene, Benino aveva retto lo 0-0 Però poi insomma ragazzi quando puoi che in definitiva crei poco o crei 0, raccogli 0 e il secondo tempo l'Empoli insomma apre con questo gol insomma di Lukaku che segna Io non voglio dare colpe a Paris, però Lukaku con questo diagonale segna, poi arriva insomma la doppietta e poi il 3-0 Una partita insomma che ragazzi, qui vale sempre lo stesso discorso, non sono queste le partite dove l'Empoli deve fare punti Però insomma ragazzi, come ho detto anche la scorsa volta, sarò un po' critico con la squadra perché insomma perdere con la Cremonese ci sta Perdere con l'Inter ci sta, però ragazzi bisogna anche vedere il modo come te vai a perdere le partite ragazzi E queste due partite te le hai perse, le hai perse male, le hai perse in malo modo perché te non hai creato gioco ragazzi Se anche oggi non ci giriamo intorno ragazzi, l'Empoli non crea gioco, non crea palle e gol, non crea presupposti Per essere pericolosa in ala di rigore dell'avversario e poi in definitiva ragazzi ti arrivi, reggi un tempo E il secondo tempo ragazzi quando poi ti trovi davanti giocatori come Lukaku prendono e ti puniscano e ti fanno gol Perché ragazzi oggi l'Inter è stata una squadra secondo me al limite dell'imbarazzante Quest'Inter ragazzi oggi ha camminato e ci ha fatto tre gol camminando ragazzi con un Lukaku che insomma a me Lukaku piace giusto e relativo È un attaccante forte ma magari ce l'avesse l'Empoli ma ragazzi anche oggi insomma Lukaku ha camminato Ha fatto due gol con un doppio passo che insomma a tre all'ora e ci ha fatto gol ragazzi Il terzo gol di Lukaku Martinez è un terzo gol dove ti prendi perché hai difeso male E ragazzi è insomma la novella che quest'Empoli qui difende bene e non prende gol Ora insomma mi dispiace dirlo ma insomma non regge più questa storiella qui Perché ragazzi l'Empoli è da un po' di tempo a questa parte che prende e subisce gol E questo attacco dell'Empoli ragazzi io non è per mettere la croce sull'attacco Ci mancherebbe altri ragazzi non voglio mettere la croce su nessuno Né su Zanetti né sulla difesa né sul centrocampo né sull'attacco Perché ragazzi quest'Empoli ha i punti che ha per merito suo Perché ha vinto qualche partita con pochi gol fatti Ma io non voglio ragazzi mettere in croce nessuno E però poi insomma la realtà di fatto è questa ragazzi E che quest'Empoli è da un po' di giornata a questa parte Che è un Empoli che è in calo E una squadra che io vedo poco convinta Con le motivazioni un pochino basse Una squadra che quando prende gol non riesci più a recuperare Una squadra che segna poco, crea poco Difende bene ma difende bene a tratti E poi ragazzi difendi bene Un tempo è vero avevi davanti l'Inter Va bene la prossima avrai davanti Avrai davanti il Sassuolo Avrai davanti il Sassuolo E però poi ragazzi insomma il discorso è quello lì Ragazzi e poi certe volte insomma le partite te le devi anche Devi anche essere bravo a metterle dalla sua parte ragazzi E quest'Empoli qui dalla sua parte Ormai non le mette più Perché insomma ragazzi poi alla fine definitiva Anche i cambi il secondo tempo Cosa hanno dato i cambi? Non hanno dato niente ragazzi Hanno messo dentro un destro che cammina Un Satriano che non crea niente Un Grassi ragazzi che va a 3 a 3 all'ora Che è lento 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 Poi con Luperto che si è fatto male Hai messo dentro Tonelli che è un Tonelli Che anche lui è stato fermo un anno e mezzo ragazzi Ma io ripeto non voglio mettere la croce addosso a nessuno Però ragazzi il gioco che Zanetti esprime È un gioco scadente sotto la qualità E ormai ragazzi questo gioco qui L'Empoli non lo può più cambiare a 7 partite O quanto sono 8 dalla fine Ci mancherebbe altro Però ragazzi qui la realtà dei fatti È una che Quelle dietro che hai il vantaggio ormai Insomma dei punti che hai Però quelle dietro ragazzi Io vedo delle squadre come La Salernitana A Trattilo Spezia Il Verona Che sembra che abbiano ripreso un po' di vitalità E mentre io vedo dall'altra parte Un Empoli in grosso Comunque in difficoltà E ragazzi poi io se io vado a Insomma a giudicare i singoli Oggi a chi do la sufficienza Voi a chi date la sufficienza Io ragazzi sinceramente Fatico a dare la sufficienza A tutti Ma non perché l'Empoli Poteva Cioè fare di più Con quest'Inter qui Perché poi in definitiva Giochi contro l'Inter Sì ma ci può stare Che perdi la partita Ma ci mancherebbe altro Però ragazzi io giudico L'andamento L'andamento di queste ultime partite A me queste ultime partite A me da un po' di tempo a questa parte Non mi convince l'andamento Quindi io Ragazzi io vado Per chiudere il 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 discorso Vi faccio due valutazioni Primo Ragazzi che Allora L'Empoli Per essere salva Gli serve 3-4 punti E l'Empoli Quando li deve fare questi 3-4 punti Nelle prossime 3 gare Con Sassuolo Bologna E Salernitana Ecco ragazzi Io Sono preoccupato Mi Se l'Empoli Però dovesse Non fare punti Nelle prossime 3 Ecco io li sarei Sinceramente Preoccupato Perché poi Andresti A Verona Ecco la Sampdoria In due campi Che comunque È difficile Giocare E quindi se l'Empoli Dovesse arrivare Ragazzi Con 3 punti Di vantaggio Un punto Di vantaggio Lì ci sarebbe Sì Da preoccuparsi E Secondo punto Ragazzi Se L'anno scorso Sono state fatte Delle valutazioni Su Andrea Zoli Che aveva chiuso A 41 punti È vero Subendo Un sacco Una fraccata Tanti gol È vero Ma aveva comunque Chiuso A 41 punti Facendo un giurone Insomma Di ritorno Un po' Così Così A prescindere Da come andrà A finire Con Zanetti La società Non dovrebbe Anche Un po' Aprire Tra virgolette Un processo Su Zanetti Sul futuro Di Zanetti Bah Io ragazzi Vi lascio Con questa Domanda qui Vi saluto Vi ringrazio Like Commentate Condividete E oggi Come sempre Soprattutto Forza Empoli Forza Azzurri Ciao Ciao Ciao